Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti tappeto Kilimfars 296x175. I motivi di questi tappeti sono minimalisti. I colori bene armonizzati in una scala cromatica naturale e chiara. Le sfumature di questa scala cromatica sono tessute a mano con un tessuto irregolare in modo selettivo. Per ottenere un bordo dal fascino artistico e dal colore naturale. Lavorazione. Tessuto a mano. Spessore circa 4 mm. Materiale. Lana. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie per la visione.